Allora questo è un esempio di lezione con tre allievi che variano dagli 11 ai 12 anni, allievi che giocano già bene da tre quarti campo, useremo una palla mid, quindi sostanzialmente morbida. I ragazzi faranno degli esercizi sempre molto dinamici e voglio far notare come la presenza del maestro sarà sempre costante sia durante la raccolta delle palle, sia durante la spiegazione e soprattutto durante le esercitazioni, sia al cesto che a punti. Allora ragazzi, incominciamo la lezione con l'esercizio che già ben conoscete, i tre colpi a testa, un diritto, un rovescio, un rovescio. Che cosa chiedo a voi? Chiedo di curare molto la posizione di tendenza, lo spostamento dei piedi e soprattutto il finale del movimento. Come ben sapete è quello che indirizza la palla nella zona dove voi volete tirare la palla. voglio vedere veramente un buon movimento di gambe e soprattutto la palla sempre dentro il campo. Su tre colpi, almeno due devono andare sempre, dico sempre, nel campo. Via veloce, forza! Vai! Forza canna! Vai, via! Velocissima, devo essere brava ad accompagnare la palla con un bel finale, girandosi bene di fianco, via! State un po' indietro, vai! Non pregato, scusami! Via! State indietro, io allungo un po' la traiettoria, dobbiamo giocare sulla tre quarti campo, via! Via! Vai Chiara! Vai! Veloce con i piedi, oggi c'è un po' di aria, devo essere brava ad cercare la palla con i piedi, cambia quell'impugnatura, brava Beatrice! Sistema i piedi! Voilà! Via! Girati di fianco, Chiara! Bene, via! Ottimo lovesco! Brava! Forza Beatrice! Benissimo, ancora uno! via! Hop! Via! Hop! Velocissimi, aumentiamo un pelo! Dai! Forza Beatrice! Bene! Ehi! Accompagna bene quel finale, Camilla! Devo proprio spingere in direzione! Via! Ancora! State un po' più indietro che allungo il colpo! Brava Beatrice! Via! Ancora! Su! Su! Dai veloce! Dai veloce! Bene! In finale Chiara! Mancava il finale quel colpo! Vai! Passi corti Beatrice! Se io sbaglio la gioco più corta devi essere un po' lesta! Forza! Muoversi bene con l'apertura già fatta! Via! Su! Vado! Bene! Ancora! Via! Su! Su! Aumentiamo ancora la velocità! Via! Muovere i piedi mantenendo una buona qualità! Palla sempre in campo! Va bene! Bravi! Già! In chiarezza sto rovescio! Lascialo andare! Grutti! Due su due! Un erroraccio! Via! State indietro! State giocando troppo avanti! Stiamo indietro! Via! Via! Ancora! Piego le gambe! E via! Su! Brava! Buono! Molto bene! Via! Forza! Sotto! 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 Brava! Ancora! Ultime palle! Continuiamo così! Ultima! E via! Raccogliamo velocissime le palline! Forza! Mettiamo le palle sulla racchetta! Veloce e chiara!